Nuova Dacia Bigster, la più grande tra le Dacia e quindi anche quella con la volumetria interna più generosa di tutte quante. Allora, se siete d'accordo con me, io direi di darle un'occhiata come si deve, di curiosare qua dentro, di frugare un pochino e lo facciamo non appena vi siete iscritti al nostro canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, perché per noi il vostro supporto è preziosissimo. Allora, ci siamo? Siamo pronti? Andiamo a mettere un pochino le mani dentro. Dunque, iniziamo con il bagagliaio. Comincio col dirvi che questa Bigster che vedete in questo momento ha l'apertura manuale, ma si può avere anche l'apertura elettroattuata e quindi completamente automatica. Sfilo questa bella cappelliera che si ritrae e che può anche essere regolata su due posizioni diverse, quindi posso avere anche questo step intermedio, oppure appunto averla completamente indietro. E poi qui noto subito questo bel tappeto in gomma che consente di sfruttare questo vano anche nelle maniere più ignoranti, perché insomma così non si rovina la moquette. Ma siccome voglio farvi vedere cosa c'è sotto, questo lo tolgo e comincio allora a notare un dettaglio come. Il pavimento che è diviso in due. Questo consente di regolare in questa maniera questa sezione in maniera tale da creare una sorta di séparé. Vedo anche qua sotto una piacevolissima ruota, o meglio ruotino di scorta che va a mangiarsi un pochino di spazio, però volete mettere la comodità di avere uno pneumatico a disposizione quando si fora? Non vi ho detto 667 litri la capacità massima, ma che poi varia a seconda un po' delle versioni, chiaramente con il ruotino di scorta si scende, ma poi anche a seconda delle motorizzazioni, però poi i numeri ufficiali arriveranno in un secondo momento. Qui posso farvi notare invece il pratico sistema per abbattere gli schienali che sono divisi in configurazione 40-20-40. Ci sono poi dei ganci e anche gli agganci U-Clip che sono quel sistema di aggancio appunto universale che consente di installare vari accessori diversi per rendere più pratica la vita a bordo. Qui ad esempio ci vedrei bene una torcia a LED in maniera tale che possa illuminare dall'alto quando magari si fanno delle attività ricreative. Anche da questa parte le leve e poi una 12 volt e ancora vari ganci in alto. Insomma un bagagliaio capiente anche grazie a questi vani laterali è sicuramente molto ben sfruttabile. L'angolo di apertura delle porte posteriori è piuttosto ampio, quasi a 90 gradi. Lo vedete in generale l'apertura è piuttosto comoda e confortevole nel consentire l'accesso anche a chi come me è alto. Oltre un metro e 90 e guardate quanto spazio per le gambe. Tra l'altro questo sedile è impostato sulla mia posizione di guida per farvi vedere dopo come si sta davanti e di conseguenza ecco traete voi le vostre conclusioni. E per quanto riguarda lo spazio per la testa veramente nessun problema. Una cosa che però vorrei sono anche le maniglie nella parte alta perché migliorerebbero e non poco il comfort. Secondo me apprezzo molto anche il tetto panoramico che debutta per la prima volta su una Dacia. Lungo un metro e 20 se ne apre una sezione lunga circa 35 centimetri. Per quanto riguarda i materiali sulla parte interna della portiera sentite sono tutti rigidi anche qui all'altezza del bracciolo. E per quanto riguarda questi vani laterali me li sarei aspettati un pochino più generosi. Diciamo che insomma sono si sfruttabili ma magari non più di tanto o quanto si vorrebbe. Al contrario bene che ci sia questa tasca sul sedile dietro il sedile del passeggero ma anche da quest'altra parte in maniera tale che si possa magari riporre qualche oggetto bocchette dell'aria. Una primizia sulle Dacia che avendo del resto sempre occupato altri segmenti di auto non erano dotate prima. Poi torna di nuovo quel concetto degli U-Clip e poi delle prese qua sotto di tipo USB-C retroilluminate quindi molto facili da individuare in ogni momento. Attacchi Isofix laterali e anche un bel disegno per quanto riguarda i sedili con questo doppio colore e poi una piacevole sensazione al tatto per dei materiali comunque anche loro ricercati da un punto di vista di eco. sostenibilità insomma qua dietro si sta alla grande veramente nessun problema né di spazio e né di claustrofobia. Guardate quanto sono ampie le superfici vetrate. E poi c'è la possibilità di abbattere questo sedile centrale per avere una base su cui appoggiare i gomiti certo ma anche infilare due bicchieri o bottiglie di dimensioni diverse e anche usare questi portatelefono. Se ritrovano materiali rigidi anche sui pannelli porta anteriori mi piace molto questa sagoma Ypsilon che poi riprende anche un po' la forma dei gruppi ottici anteriori però all'altezza del gomito c'è l'imbottitura quindi proprio dove serve. I vani laterali qui sono un po' più generosi qui nella parte in fondo sono più larghi e qui c'è spazio magari per una bottiglietta. Una piccola console con i tasti dell'illuminazione e poi il pulsante My Safety che serve per configurare o meglio richiamare le proprie preferenze per quanto riguarda il settaggio degli ADAS perché ci sono vari dispositivi di ausilio alla guida compreso sulla Bigster anche il cruise control adattivo. Però torniamo agli interni con questo volante con razze belle chiare nella disposizione dei vari comandi che si trovano sempre e subito e un display da 10 pollici per quanto riguarda la strumentazione in realtà su alcune versioni i pollici sono 7. mi è piaciuta molto la possibilità che la connettività con i sistemi Apple e Android consenta di visualizzare le mappe di Google direttamente là e quindi non limitandole soltanto all'altro display che misura 10,1 pollici ed è sempre di serie con un sistema molto fluido vedete perché è semplificato di fatto e quindi è anche molto veloce nel mostrare tutte quelle che sono le funzionalità che si possono anche scaricare attraverso uno store dedicato insomma un sistema molto reattivo dalla risoluzione veramente ottima e che tra l'altro offre anche vedete la possibilità di regolare in parte la climatizzazione perché lo si può fare anche qua sotto meno male ma anche di attivare i sedili riscaldabili per esempio oppure il volante riscaldato vi ho parlato di telefoni mi piace molto questo supporto per smartphone appunto che si può regolare in questo modo ed è fissato qui attraverso uno di quei ganci U-Clip che vi ho fatto vedere prima e che posso farvi vedere anche qua in questo caso è fissata la torcia che vi dicevo prima magari per essere utilizzata nella parte alta del portellone quindi è molto facile installare gadget diversi qua sotto presa 12 volt, due USB-C retroilluminate qua su c'è una comodissima mensolina magari per mettere il portafogli perché no qui si può avere la ricarica di induzione quindi senza filo per il telefono cambio manuale su questa versione e qui il rotore per le modalità in off-road perché parliamo appunto della versione 4x4 doppio portabicchieri e sotto questo bracciolo anche lui imbottito c'è parecchio spazio in profondità così come del resto mi è sembrato anche bello capiente il cassetto davanti al passeggero che non è frenato l'avete visto però è bello profondo e poi è anche organizzato con quei fermacarte porta penne e porta monete insomma un'auto che punta sì sulla concretezza però non intesa soltanto nella scelta dei materiali che comunque sì sono rigidi ma molto ben assemblati anche piacevoli da un punto di vista estetico ma è razionale intesa anche come offrire tutto quello che può servire ad un automobilista in maniera tale da semplificargli la vita tutti i giorni e infatti non mancano per esempio anche le luci di cortesia con gli specchi e quindi attenzioni che fanno sempre piacere qui i comandi per aprire il tettuccio poi un'altra cosa che mi è piaciuta che vi faccio vedere così è quanto siano sottili questi poggiatesta perché fanno sì che girandosi per fare manovra o magari immettersi in una strada ecco la visuale sia piuttosto libera la versione col cambio automatico invece è organizzata in questo modo quindi con il selettore piccolo posizionato da questa parte e qui invece una sara cinesca che svela i due porta bicchieri e il vano che c'è sotto e poi un'altra novità non da poco è la climatizzazione bizona però vi rimando direttamente a motorone.com per tutte le altre informazioni compresa la gamma motori perché sono tutti elettrificati quindi ibridi compresa la versione a gpl arriva nelle concessionarie nella primavera del 2025 con prezzi che devono ancora essere ufficializzati ma che partono da meno di 25 mila euro grazie a tutti